Le indicazioni che abbiamo di quello che deve essere l'anno prossimo ce l'abbiamo già, non è che abbiamo aspettato questa partita, che è stata una partita da mio parere ben giocata, soprattutto nella fase d'attacco, qualche leggerezza ma comprensibile quando non è niente da giocare, ci tenevamo a fare bella figura, penso che l'abbiamo fatto, rimontando un risultato sfavorevole, abbiamo avuto l'opportunità per vincerla, l'abbiamo persa ma non è che cambia niente. Ciao Carlo, mi hai rubato mezza cosa, non vale niente questa partita, nel senso sotto il profilo statistico, però il tuo primo anno di Napoli, oggi che si chiude, tu come lo consideri? Positivo, abbiamo messo delle basi buone, penso per il prossimo anno, questa squadra non con continuità, mi ha fatto vedere delle ottime cose, a mio parere mi dà molta fiducia per la prossima stagione. Buonasera Carlo, non la chiama la Juve vero? E poi invece sempre l'emozione di quest'anno del suo ritorno in Italia, così bello comunque, no, a prescindere. No, come ho detto, mi sono trovato bene, è l'ambiente giusto, mi piace molto l'ambiente che sto vivendo, è tra l'altro un ambiente che mi dà molte motivazioni, quindi adesso ci riposiamo e prepariamo bene la prossima stagione. Ministro, buonasera, nelle quattro gare in cui Cali 2 era squalificato, tre in campionato e una a due, fa quattro gare e nove col subito, è un caso? Oggi è un caso, insomma oggi non è che stavamo lì tanto, cercamo di fare una bella partita aperta, credo che la fase d'attacco l'abbiamo giocata molto bene, dietro si poteva far meglio, ma insomma chiedevo molto ai giocatori, perché se avessi dovuto chiedere molto ai giocatori per questa partita li avrei fatti riprendere martedì e non giovedì. Ciao Carlo, dicevi che stiamo già lavorando, le basi le abbiamo, dobbiamo migliorare, ecco come va migliorato il Napoli, ma al di là ovviamente dei nomi che non ci vedrai mai e dei rulli, anche a livello proprio concettuale, dove va migliorato, come va migliorato, cosa bisogna fare? Ho letto che nella riunione si sarebbe parlato di 60 nomi, sicuramente penso che ne arriverà qualcuno di meno, del 60, però non posso certamente parlare di fare dei nomi, penso solo che la squadra può migliorare nel cercare di dare più continuità ai livelli altissimi di gioco che abbiamo raggiunto in certe partite. Questo volevo sapere, quindi la continuità del livello di gioco? Sicuramente giocheremo un calcio più aggressivo il prossimo anno, con più intensità. Salve Ministro, Luca Nigro, le chiedo, visto all'inizio un bel abbraccio tra le Mialovic, come valuta questa grande cavalcata di Mialovic da quando è arrivata a Bologna, il campionato del Bologna, la seconda parte del campionato? Ho fatto un periodo straordinario trovando una squadra in difficoltà che è riuscita attraverso il lavoro, l'impegno, la determinazione a costruire qualcosa di importante. Buonasera, dopo otto anni di Juve sono maturi i tempi per cambiare chi vinceva il campionato? Ci proviamo, è poco ma sicuro, ci proveremo ancora con più voglia, ancora con più entusiasmo. Chiaro che tutti ci proveranno di più, ci proveranno anche le altre squadre che sono in astinenza come noi. Grazie e buona serata a tutti.